stamattina parliamo di lamentela ho imparato a mia spese che lamentarsi non produce risultati ogni volta che ti lamenti non fai altro che peggiorare la tua situazione quando ti lamenti stai concentrando la tua attenzione su tutto quello che va male e questo concentrarsi su quello che va male produce altri risultati negati se la lamentela potesse aiutarti a smetterla di avere i tuoi problemi li avrebbe già risolto ogni volta che ti lamenti la situazione non cambia se vuoi approfondire l'argomento della lamentela sul mio blog ti linko l'articolo in questione se ancora non mi conosci in descrizione ti lascio il link per approfondire chi sono condividi questo video e iscriviti al canale premendo il pulsante alla tua destra iscriviti